Avanza andiamo, banderas de unidad, e tu vendrás, marciando junto a miglia e si verás, tu canto e tu banderas florescer. Franco Mameli, i Taifa dopo 5 anni tornano a esibirsi a Nuoro, lo faranno domani alle 21 nel Teatro San Giuseppe in Viale Trieste. Che impressioni hai di questo ritorno nel capolocco per Valci? Assolutamente felicissimi perché noi nasciamo a Nuoro come gruppo, anche se adesso c'è stata una leggerissima trasformazione, ci sono dei ragazzi che arrivano da Torino, dei ragazzi da Milano. In realtà il gruppo si è spostato a Milano e quindi tornare a Nuoro per noi è un'emozione prima di tutto. Siamo emozionati di risuonare nella nostra patria. Chi sono i Taifa? I Taifa ripresento velocemente Michele Salituro, Ettore Melis, nuerese, per mantenere lo zoccolo duro. Io sono Stefano, Franco Mameli di Nuoro, Angelo Palma da Torino, Pietro Cirino, milanese, residente ma figlio di nuerese, quindi in parte anche nuerese. Veniamo da un periodo molto interessante e intenso per il nostro gruppo, due dischi insieme agli Intillimani, siamo stati l'unico gruppo italiano presente all'Expo 2015 dove abbiamo fatto molte date presso il padiglione del Cile. Così un po' facendoci anche arrossire il Corriere della Sera ci ha definito come gli Intillimani in versione sarda. Ci teniamo molto a mantenere questa nostra tradizione, anche nei nostri dischi c'è sempre insieme a quella musica che noi cerchiamo di reinterpretare degli Intillimani, anche sempre degli accenni alla nostra terra, alla nostra isola, alla nostra nuoro e a tutti i nostri amici nueresi. Per cui grande, come diceva Franco, grande emozione che anche trasmettiamo a quelli che non sono di nuoro, che stanno vivendo anche loro in prima persona questa esperienza per noi, sempre tornare a nuoro e tornare a casa. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS